Allora, due... Senta la voce. Proviamo un po'. Prova, prova. Prova, prova. Ok. Ok, aspetta. Forza voce. Senta la voce. Senta la voce. Ok. Purtroppo, come accade, quando vengono usati gli strumenti da un emotivo dirigente, non tutti hanno magari le ricardezze. Usiamo una cosa nostra. Bene. Allora, è la volta di un duo di flauti, di Quons, con cento per due flauti in sol minore, due tempi, allegro e amoroso. Ai flauti, Carla De Vitt e il suo insegnante Arturo Gerai. Ah, chiedo scusa. Accompagna al pianoforte la professoressa Monica Balinti. Grazie. Applaudissements. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.